può una semplice strada riportarci in piena epoca medievale beh a faenza si ed esiste infatti il vicolo dello steccato una piccolissima strada che congiunge il viale delle ceramiche con il tratto esterno di corso garibaldi in questo luogo all'inizio di agosto del 1295 avvenne uno scontro fra guelfi e ghibellini ovvero fra i manfredi e la famiglia zambrasi in quell'occasione venne costruita una barricata in mezzo alla strada che venne poi ripresa nel nome appunto del vicolo alla fine ad avere la meglio in quello scontro furono i ghibellini e i manfredi furono temporaneamente cacciati dalla città un altro nome di questa strada era via granarolo vecchio forse anticamente l'unico luogo per poter raggiungere la frazione vicino alla nostra città faenza in un minuto